... Nicola e Dio andammo in campagna da nostro padre a salutarlo. Avevamo deciso di lasciare l'Italia e di partire per l'America. Torneremo soltanto quando avremo i dollari, per ricomprare la nostra azienda. Lavoreremo di nuovo insieme, babbo, alle nostre cattedrali. Ve lo giuro, anch'io. Ma voi aspettateci, babbo. Non morite? Non morirò. Dice che per rimanere giovani bisogna vivere da giovani. E allora io farò il giovinotto. Ve lo giuro. Che ore sono adesso in America? Mattina! Mattina. E allora io prima di addormentarmi vi dirò buongiorno Andrea, buongiorno Nicola. E la sera dopo dirò buongiorno Nicola, buongiorno Andrea, perché io non farò mai preferenze fra voi. Siete due, è della vostra forza, purché rimaniate pari. Altrimenti diventerete nemici. Ricordatevelo. In tutto è sempre pari. È il vostro segreto. Il segreto di due è il segreto di Dio. Babbo, siamo un po' spaventati. Il segreto di Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.